Il Catania continua a lavorare sotto traccia per rafforzare l'organico e mettere a disposizione del nuovo allenatore una compagine in grado di puntare alle altre sfere della classifica. Per la difesa, oltre al nave il cui ingaggio potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, si fa avanti la candidatura di Meola attualmente in forza alla Matera, mentre non sembrano trovare conferma le voci che vorrebbero un ritorno di Ciro Capuano nell'assetto della squadra di Rigoli. Il difensore peraltro si è svincolato dall'Agragas. A centrocampo, proprio dalla città dei Templi, potrebbe arrivare Ziebert, centrocampista di Valore, che pare abbia avanzato delle richieste economiche non condivise dalla Catania, ma le due parti potrebbero venirsi incontro prossimamente. Sarà annunciata a breve l'ufficialità del ritorno di Marco Biaggianti, che dovrà essere il farro del reparto di mezzo, oltre che indossare la fascia di Capitano. Suggestiva l'ipotesi che in attacco possa tornare Jorge Martinez, anche se la richiesta economica della calciatore potrebbe fare la differenza. Sempre interessato è la club di Via Magenta a Torregrossa, seguito comunque anche da club di Serie B. Anche l'affare Caccavallo alla fine dovrebbe andare in porto, mentre in uscita i giovani Rossetti di Grazia e Sessa dovrebbero finire all'Agragas. Sempre in uscita, Rosina potrebbe finire alla Salernitana nell'ambito dell'affare dello stesso Caccavallo. Insomma, novità importanti sono annunciate nei prossimi giorni, anche per chi alla fine della prossima settimana inizierà il ritiro precampionato e per quella data la dirigenza rossa-azzurro vuol fare in modo che l'assetto possa essere quanto più definitivo possibile, in modo da accelerare i tempi in fase di preparazione precampionato.